La contrarietà all'opera denominata Interconnessione Pedemontana a Brebemi o Autostrade Bergamasche ha sempre messo la contrarietà del Comune di Levati. Fino dal 2003 e dal 2004 è stata presa una posizione forte. Di contrarietà sia questa infrastruttura e di contrarietà sia l'infrastruttura della gronda ferroviaria Serino Bergamo. Entrambe le infrastrutture andranno a impattare sul territorio di Levati provocando un danno irrimediabile al territorio stesso. Nella conferenza dei servizi del 15 dicembre ho presentato all'amministrazione provinciale e regionale quindi in sede di conferenza dei servizi un documento in cui erano state riprese tutte le preoccupazioni e le motivazioni che facevano esprimere al Comune di Levati un no, che era un no appunto motivato. Il tracciato dell'interconnessione tra Pedemontana e Brebemi andrà a impattare sul territorio di Levati e devastando un'area ambientale storica di bregio. Andare a costruire una nuova autostrada è veramente, secondo noi, poco opportuno in un territorio che è già sovraccaricato di infrastrutture e di altre opere. A poca distanza abbiamo un inceneritore che è stato costruito in passato e numerose ditte quindi andare veramente a caricare ulteriormente il territorio di un'infrastruttura di una portata così importante come questa è fortemente periodizzante per i comuni che si trovano calata, come dicevo prima, questa infrastruttura appunto. L'alternativa che il Comune aveva proposto storicamente era quella di andare a potenziare la strada 42 che è quella che da Stezzano poi porta a Trevizio. Noi abbiamo fatto alcune richieste, queste richieste non sono state poi confermate dai progettisti e dalla sede di conferenza dei servizi e dobbiamo rispondere come è giusto che sia alla nostra gente, alla nostra popolazione da dove ci si trova un'opera non utile per come è stata progettata e calata nei territori non ci sia colore politico che tenga ma ci siano delle risposte da dare al proprio territorio. La società Autostrade Bergamasche è, come si diceva, l'intero tratto finanziato da privati. In questa società sono presenti degli attori pubblici però poi a quanto a noi risulta l'intera opera è finanziata da privati dove poi loro prendano questi soldi e quale sia la loro capacità di indebitamento, la loro capacità poi di realizzare in toto l'intera infrastruttura questo poi si verificherà ma penso che abbiano valutato quali siano i costi e ci sia un capitale iniziale da dover poi investire. Quindi un privato fa un investimento quando poi però ha un ritorno economico e quindi il suo capitale rientra. Quindi quest'opera verrà ripagata totalmente dai cittadini non solo in termini di consumo del territorio ma anche di esborso economico perché chi dovrà andare da Bergamo perché poi la tangenzale sud di Bergamo a Treviglio pagherà quindi ai cittadini dei territori. Si chiede non solo un esborso economico ma anche un esborso in termini di qualità di vita.